Quando ti manca il centravanti da 15 centri a stagione è giusto affidarsi a una cooperativa del gol. E' quello che Diaududu, allenatore confermato sulla panchina della Fidelisandria dopo il buon esordio casalingo nell'1-1 contro il Monopoli, farà a Crotone, sede della prossima trasferta dei Biancoazzurri. Contro i calabresi, secondi in classifica nel girone C e reduci dal K.O. sul campo del Catanzaro in un derby d'altissima quota, è probabile la conferma del 4-3-1-2 con pochi punti di riferimento avanzati e la richiesta di costanti inserimenti ai centrocampisti. Tracce intraviste già nella sfida contro il Monopoli, dove Diaudu aveva comunque puntato su un numero 9 per caratteristiche come Leon Cipos. Il croato ex Catania, come già successo in altre partite di questa prima parte di stagione, non ha però convinto. Così a Crotone è in ballottaggio con Orfei, esterno offensivo già impiegato da Cudini come seconda punta, inamovibile. Lì davanti è Don Bolsius, uno dei quattro capocannonieri della Fidelis. Due sono le reti segnate, sin qui dal 24enne olandese stesso fatturato di tre centrocampisti, Simone Paolini, Francesco Urso, a rientro all'uscita dopo il turno di squalifica osservato nel derby del Dei Ulivi e Kevin Candellori. Proprio il ritorno di Urso apre le porte a un interrogativo. In che ruolo giocherà il numero 10, epicentro della manovra dallo scorso gennaio, momento dell'arrivo in rosa? Due le possibili risposte, guastatore alle spalle delle punte con il sacrificio del baby Gibril, autore però di una prova positiva contro il Monopoli o Mezzala. Ipotesi quest'ultima che condurrebbe l'ex Cesena in ballottaggio con Paolini per un posto, molto più remota, ma comunque da tenere presente la terza possibilità. Bolsius, unica punta supportato da Urso e Gibril, con conferma del terzetto di centrocampo, Paolini, Arrigoni, Candellori. Più opzioni per sopperire alle difficoltà nell'andare a segno, in particolare in trasferta, dove la Fidelis in campionato non vince quasi da un anno, 28 novembre 2021, 3-2 sul campo del Messina e dove in stagione sono arrivati solo due punti, frutto dei pareggi contro Viterbese e Gelbison su sei tentativi. A dispetto della classifica, con l'ultimo posto da scontare della situazione societaria in evoluzione, a Crotone è comunque lecito attendersi una squadra in un discreto stato di salute, chiamata a studiare idee per andare oltre le difficoltà, quelle nel trovare la rete avversaria e quelle nel portare a casa punti, quando si gioca lontano da Andria.